Se non dormi mai e sei pieno di guai, se qualcuno ti chiede perché, gli risponde per Teddy. Più forte! Se gli amati sempre stanno sempre con te e vuoi dare l'acqua a qualcuno, la tua pericchetti. Chi è Teddy? Se vai a letto presto ma non sai perché, non te la devi prendere con te. Eeeh! 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 Eeeh!